Cari amici, oggi vi parlo di uno dei miei vini preferiti dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo. Siamo a Bordeaux e parliamo di Chateau Sossiando Mallet, nello specifico nell'annata 93. Che sapete, a Bordeaux non è stata per la maggior parte degli Chateau così fortunata e così facile. Parliamo di un vino appunto dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, meno di 50 euro a bottiglia, e che ha una composizione al suo interno di 55% di Cabernet Sauvignon, 40% di Merlot e 5% di Cabernet Franc. Siamo ovviamente nella zona di Bordeaux e più nello specifico siamo nella zona del Medoc, una delle zone più belle dove vengono fuori fra i vini più profondi e più interessanti di tutta la regione di Bordeaux. Vedete già nel bicchiere come il colore del vino sia un rubino sicuramente intenso, cupo, ma il vino ha una lucentezza straordinaria per essere ancora un 93, perfettamente limpido, perfettamente a posto. Al naso avviene un po' il miracolo perché questo vino è davvero un vino sexy, un vino straordinariamente ammaliante, con delle note balsamiche che sono predominanti insieme alle note di frutta, leggera tostatura di caffè e anche note di cacao che ci dicono che c'è l'evoluzione nel vino ma perfettamente sorretta da una bellissima acidità che ci dirà che questo vino ha una vita ancora molto lunga. In bocca ritroviamo un po' tutto quello che abbiamo sentito al naso, il vino è molto coerente, c'è balsamicità, c'è la frutta, ci sono le spezie soprattutto in mezzo al palato, un finale bello lungo, un vino godibilissimo, un vino maturo in questo momento, straordinariamente piacevole. Jean Goutreau, il proprietario di Chateau Sossiando Mallet, ha senza dubbio fatto un miracolo straordinario nel produrre un vino così buono in un'annata così piccola a Bordeaux, ma come sempre nelle piccole annate i produttori più bravi producono i veri capolavori.